Il tema riguarda questo straordinario movimento dell'arte italiana tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento che ha rivoluzionato quelli che erano i mezzi tecnici e espressivi lavorando proprio sul colore e sulla luce Questa mostra ha come caratteristica proprio quella di indagare sulle varie personalità con una metodologia che è da una parte quella di non soltanto documentare i grandi maestri da Segantini a Pellizza a Morbelli ma anche di costruire un percorso di geografie più allargate quindi considerare quello che è la diffusione del divisionismo in aree geografiche che non sono soltanto il Piemonte, la Lombardia ma anche la Liguria, la Toscana e l'Emilia, Roma e dall'altra anche quello che è il lungo periodo vale a dire una rivoluzione legata alla luce e al colore che non soltanto prende avvio alla fine dell'Ottocento ma anche quei maestri quelle figure che poi nel secolo successivo quindi nel primo decennio del Novecento si rivolse a questa nuova tecnica proprio nella ricerca della modernità e della luce pensiamo non a caso che quelli che saranno poi i grandi esponenti del futurismo come Balla e Boccioni e Carrà per esempio avviarono la propria carriera la propria attività proprio rivolgendosi alle tecniche divisioniste il percorso stilistico offerto al visitatore di questa mostra è un percorso variegato perché si troverà di fronte dipinti che costituiscono un'applicazione sistematica della tecnica della scomposizione dei colori e quindi anche con implicazioni scientifiche teoriche alquanto sistematiche ma più spesso troverà capolavori che mescolano un divisionismo pronunciato e enfatico a stesure più tradizionali quindi con un ritorno alla pittura di origine di molti artisti formatisi alla scuola verista quindi una sorpresa di fronte alle infinite possibilità di coniugare la tecnica divisionista accanto alla mostra sul divisionismo a Palazzo Roverella possiamo visitare una esposizione con sorella a Villa Badoer a Fratta Polesine sulle ceramiche di Galileo Chini si tratta di ceramiche che riecheggiano le tessiture orientaliggianti e colorate d'oro che ritroviamo anche nelle figurazioni pittoriche di Galileo Chini di Galileo Chini di Galileo Chini di Galileo Chini a